Siamo nel nostro torrazzo che è stato concepito, evocato e realizzato da Vespasiano Gonzaga, mai più avrebbe mai pensato di organizzare all'interno mostre, però poi alla fine per un'abile riconversione dell'edificio stesso è stato appunto convertito a zona espositiva. La mostra dei Naif che oggi andiamo ad inaugurare è una mostra molto importante perché Naif è un'arte contemporanea, persone che si sono autodidatta, che realizzano dipinti ormai riconosciuti in tutto il mondo e noi siamo ben contenti e ben lieti di ospitare all'interno della nostra struttura. Qui abbiamo una serie di 160 quadri, di 140 pittori diversi, per questo motivo dobbiamo ringraziare il pittore Franco Mora che tutti conosciamo perché fanno parte anche un po' della sua collezione. Ce n'è qualcuno anche da fuori Italia perché la pittura Naif è nata qui nelle nostre zone ma oramai ha preso piede un po' in tutto il mondo. Questa collezione che vediamo oggi in mostra con questi 160 pezzi di 140 autori ci offre l'occasione ancora una volta appunto di parlare di Zavattini che fu tra le altre cose un generatore di collezioni. Lui stesso collezionista e appunto promotore di tante collezioni come quella del premio che si è creata con il Museo di Luzzara e da qui appunto al di là di quello che è il patrimonio che si è creato a Luzzara con il premio dei Naif che è inaugurato nel 67, ci sono stati tanti collezionisti che hanno iniziato appunto a raccogliere le opere appunto del naifismo italiano. Il mio contributo alla mostra è stato di carattere giornalistico nel senso che ho cercato di investigare quelli che sono stati i momenti salienti del boom nella bassa reggiana mantovana dell'arte naif. Un'arte naif che è stata trascinata da tre monumenti, mi sto riferendo a Ligabue, mi sto riferendo a Rovesti, mi sto riferendo a Ghezzardi. I Naif Padani normalmente hanno tratto spunto nel loro modo di concepire l'arte da fenomeni squisitamente rurali, ci sono una parte delle rappresentazioni che qua vedrete, riprendono vita rurale quotidiana del passato, molto spesso ma devo dire anche del presente perché tutti qua da caso si riferivano all'elemento terra, all'elemento cibo, alla vita contadina, a quella che era la nostra società di un tempo ma che continua ad essere un elemento fondamentale della nostra economia, Expo parla di quello. La pittura della nostra pianura padana esprime il lavoro, esprime la relazione e è un modo davvero molto importante, molto interessante per valorizzare questo patrimonio artistico che deve vivere attraverso gli eventi culturali, attraverso situazioni che riuniscono la comunità e facciano apprezzare quello che è il genius loci di questi luoghi.